con andrea pennacchi qua siamo proprio sul firma coppia le vedete chiediamo scusa tra l'altro chi è in attesa ma saremo molto rapidi andrea che clima respirato e stai respirando in questo salone presentavi dei libri qua ne vedo tantissimi sì sì beh sono diventato uno scrittore è una roba pazzesca però c'è una bellissima aria io poi amo molto i libri per cui mi piace l'idea di stare in un posto dove ce ne sono tanti diciamo tutti in pila così e la gente viene è pazzesco viene per leggerli è una roba pazzesca infatti la cosa bella dei libri che ci sono si portano dietro tantissimi lettori è che non sono estinti è incredibile il lettore ancora vivo vegito così non è solo una proiezione virtuale ci sono anche tanti lettori giovani scopriamo al salone del libro quindi possiamo guardare con ottimismo ma io decisamente tra l'altro sto portando adesso in giro anche sono in turno con gli spettacoli e vedo che ci sono anche un sacco di spettatori e lettori che sono ragazzi meravigliosi svegli intelligenti per cui ho grande fiducia nel futuro a questi giovani visto che uno dei temi del salone è la meraviglia la vita immaginaria la capacità di stupirsi riusciremo ancora a consegnare la possibilità di meravigliarsi sì ma loro ce l'hanno già ce l'hanno di loro sia noi che ogni tanto li castriamo su sta roba qua ma sulla meraviglia lasciamoli fare grazie andrà pennacchi grazie 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 grazie